ciao sono michele robustelli studente del corso di laurea di scienze della comunicazione ho scelto questo corso di laurea perché essendo un grande appassionato di marketing pubblicitario tra le varie materie proposte vi è un interessantissimo corso proprio su esso inoltre nella scelta dell'università per me ha svolto un ruolo fondamentale la dislocazione di essa che è facilmente raggiungibile dai mezzi ma allo stesso tempo rimane isolata dal caos della città consiglio il corso di comunicazione per i numerosi sbocchi lavorativi ma soprattutto perché durante questa pandemia ci siamo accorti quanto saper comunicare bene sia fondamentale in diversi ambiti della nostra vita